In cinque sono stati fermati da polizie e carabinieri nel quartiere popolare del CEP a Palermo. In manette i fratelli Marra, Lorenzo, 40 anni, Marcello, 36, Enrico, 34 e Salvatore Emanuele, 24. Ad Alfredo, 28 anni, sono stati concessi gli arresti domiciliari. L'indagine riguarda l'omicidio di Maurizio Quartararo nell'ottobre scorso nel mercato rionale dello stesso quartiere. In quella circostanza un uomo venne ferito tra le bancarelle e una donna raggiunta di striscio da un proiettile. Qual è la soluzione? Sì, la soluzione è un fatto gravissimo, un grave fatto di sangue, è venuto peraltro in un contesto pubblico che poteva andare anche molto peggio di come già non sia andato, che ha visto un intrecciarsi di elementi investigativi molto forti che in un periodo anche abbastanza breve hanno condotto alla scoperta degli autori di questo grave fatto criminoso. L'aspetto più rilevante di questa vicenda, per certi aspetti anche più squaldito, è stato rilevare una stratificazione di odi fra due contrapposti nuclei familiari, qualcosa che si però traeva da oltre un decennio e che nell'ultimo periodo aveva avuto una recrudescenza dovuta ad ulteriori episodi, di cui l'ultimo è avvenuto proprio durante il mercato rionale a proposito della lita avvenuta fra due donne appartenenti ai due diversi nuclei familiari da cui è scatolita proprio la vendetta immediata, che poi era stata già premeditata da tempo. Siamo riusciti a rintracciarle attraverso una segnalazione di un motorino visto di leguarsi frettolosamente durante il mercato, attraverso queste ricostruzioni successive siamo risaliti dagli autori nell'immediatezza rinvenuti proprio sul posto, in alcune zone diverse, poi attraverso tutta una serie di attività tecniche successive. Grazie a tutti.